Campitelli e il Teramo, più di un'idea, un'opzione concreta, almeno stando ai movimenti ultimi. E al pranzo, col sindaco Gian Guido D'Alberto e con alcuni componenti della commissione, Gianni Gebi e Valeria Cerqueti, che dovrà valutare la fattibilità di un futuro per la squadra bianco-rossa nel caso in cui giovedì il Consiglio di Stato dovesse decretare l'impossibilità per Teramo Calcio SRL di proseguire l'attività in Lega Pro. Il pranzo ha visto l'ex patron bianco-rosso come portata principale di un menù nel quale Campitelli ha ribadito la disponibilità ad essere il catalizzatore di una unione di forze imprenditoriali che sarebbero di ulteriore sostegno ad una via già intrapresa nei giorni scorsi dalla SS di Città di Teramo, dando sostanza ad una ripartenza nel mondo dei dilettanti. In quale categoria? Ancora difficile da sapere perché quello che è certo è che la Lega Nazionale Dilettanti ha già fatto sapere di avere qualche perplessità circa l'inserimento di un'ulteriore altra compagine all'interno di un lotto già quantitativamente rilevante di società partecipanti. Ma questi saranno discorsi e ostacoli nel caso da verificare ed eventualmente provare a superare solo il caso di diniego dell'organo di giustizia amministrativa. Per quanto riguarda la possibilità di allargare ancora di più lo scenario a forze imprenditoriali, pare ci sia stata l'apertura di più di un soggetto attinente al mondo dell'edilizia e la telefonata di D'Alberto a Campitelli nell'ultimo fine settimana ha aperto questa nuova opportunità visto che lo stesso Campitelli nei giorni scorsi non aveva affatto negato il dispiacere di non essere mai stato preso in considerazione dopo gli 11 anni passati sulla poltrona di presidente del diavolo. Insomma, la SS di Città di Teramo ha aperto una strada alternativa all'attuale gestione. Campitelli e altri interlocutori potrebbero dargli ulteriore forza per determinare un progetto di ampio respiro che possa essere garanzia di calcio nei prossimi anni. Queste tuttavia sono premesse, premesse che si potrebbero realizzare e pare siano stati fatti passi importanti in tal senso solo in caso di perdita del professionismo. D'altronde Teramo Calcio SRL ha ancora una partita aperta per conservare la categoria. Giovedì la Camera di Consiglio in Consiglio di Stato e poi la sentenza anche se il mantenimento della Lega Pro appare davvero difficoltoso. È evidente che se il Teramo dovesse vincere il ricorso invece questi sarebbero discorsi solo potenziali e che nel cassetto rimarrebbero ma le basi sono già state gettate. In caso di emergenza quello che accadrà sarà solo la sentenza di giovedì o al più tardi venerdì a deciderlo. Grazie. Grazie. Grazie.